La prima volta che senti parlare del Paternoster fu mentre leggevo uno dei miei libri preferiti in assoluto, uno di quei libri che ho letto tantissime volte, ho regalato innumerevoli volte e anche dopo averlo letto diverse volte non mi ha mai stancato. Il libro è Opinioni di un clown di Heinrich Böll e nel libro appunto si parlava, si descriveva il Paternoster. Cosa è? È un ascensore molto particolare che anzitutto non ha porte e poi proprio come un Padre Nostro si ripete ciclicamente. Immaginatevi una catena, un anello che viaggia in orizzontale formato da tante piccole cabine senza porta per cui la caratteristica è che viaggia molto lentamente per cui in qualsiasi momento una persona può entrare oppure uscire. Fa un saltino, ci entra dentro una di queste scatole che poi va su oppure salta fuori. Era molto in uso nel secolo scorso, soprattutto tra gli anni 30 e gli anni 60 e veniva utilizzato soprattutto negli edifici pubblici perché effettivamente permetteva di muovere un grande numero di persone molto più velocemente degli ascensori normali. Vi metto comunque un link nelle note del programma perché è difficile immaginarlo se non l'avete mai visto. Non avendo porte questo ascensore era però anche molto incline agli incidenti. Infatti adesso in quasi tutti i paesi è vietata l'installazione di nuovi ascensori di modello Paternoster e molte nazioni li hanno banditi già da tantissimo tempo fa perché effettivamente nonostante viaggiano molto lentamente o controllato viaggiano alla velocità di 30 centimetri al secondo mi pare sì 30 centimetri al secondo però non avendo le porte veramente è molto molto facile cadere molto facile rimanere anche ammazzati. La Germania era disseminata, c'erano tantissimi di questi ascensori di modello Paternoster, infatti non per niente il mio primo incontro è avvenuto in un libro di un grande scrittore tedesco. hanno cercato diverse volte di vietarli nel 1974 hanno vietato l'installazione di nuovi Paternoster nella Germania federale e nel 1994 hanno cercato di chiudere quelli esistenti ma c'è stato un sollevamento di popolo e non ci sono riusciti. hanno riprovato ancora nel 2015 però ancora ci sono diversi ascensori Paternoster in Germania e addirittura la ditta che produce energia solare Solon nel 2009 ha avuto il permesso per farsene costruire uno nella sua sede di Berlino. quindi se passate per Berlino cercatevi il Paternoster.